Sorrento, giornata professionale del cinema, Positano News, un giornale del territorio, ma siamo online, dottor Letta, e noi siamo molto vicini alle iniziative del cinema, ci occupiamo di cultura. Un suo pensiero su questo momento del cinema e questa iniziativa che l'ho vista adesso con il duo fantastico, un po' di chissà di sì. Soprattutto è sempre un piacere venire a Sorrento e in quartiere in generale, siamo ormai tanti anni, per presentare il nostro nuovo listino, che è un listino soprattutto di cinema italiano e che vede, come lei giustamente ricordava, la punta di diamante nel ritorno insieme di Massimo Bosi e Christian De Sica per il film di Natale, che si intitola Amici come prima, quindi loro nonostante la lontananza di 13 anni sono rimasti veramente amici come prima e quindi hanno fatto un film molto divertente che farà ridere tutti gli spettatori a Natale. Quindi il ritorno del pubblico al grande cinema italiano, ci può essere un personaggio emergente che può imitare, tra virgolette, o intrapendo la strada dei grandi attori italiani. Noi è quello che cerchiamo di fare ogni giorno con il nostro lavoro, accanto ai grandi autori, ai grandi registi, ai grandi attori, ai più affermati, investiamo anche in nuove proposte, in nuovi registi, in nuovi sceneggiatori, in nuovi attori, nella speranza che possano condentare anche loro famosi e piacere al pubblico. Grazie molto, dopo tre anni ci siamo incontrati per la prima volta, sono ancora felice di intervistare. Grazie.